Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella ventesima puntata della serie fan, oggi Andiamo qui con Andrea, ciao a tutti No, non me lamento Allora, qui, ecco, c'è Andrea che stava trinciando, noi, ho detto, dobbiamo, ma non c'è più un trattore libero possibile Allora, questo è già finito di seminare, no Cioè, il same che l'ho staccato Eh, ma te l'ho fatta carmica, no Eh, non lo so, lo so trovo Non mi sa di no Ci sto io lì No, non me l'ho fatta carmica Faccio io, allora Ecco qui che arriva anche Perkins Ehm, niente, tra l'altro, stasera Pietro non c'è E Simo è andato a mangiare, per cui arriverà tra qualche minuto Poi vediamo è entrato nel server Almeno siamo, sappiamo quando è entrato Ehm, niente, adesso stiamo facendo Stiamo finendo il campo 3, come vedete manca poco E stiamo portando tutto su dei maiali Là, il 39, 42 Dove vedete quel pallino rosso Che dovrebbe essere Matteo, Giacomo, non so Cioè, no, secondo me è Giacomo Perché Boh Comunque è su di là Qui l'operaio sta No, ma qui l'operaio è una cosa indescrivibile Su sta mappa, ragazzi Non, 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 proprio non si può usare l'operaio Eh, si incastra il continuo Ho appena finito di mettere l'operaio Per seminare le barbabiette, le patate là E gli ho dovuto fare mezzo campo solo io Poi forse s'arrangio, non so Ehm E niente, tra l'altro No, niente Mi sembrava mancarsi un trattore No, c'è un trattore di mezzo Non abbiamo nel Nel Mac, nel T6 Anche perché chi ha il T6 Deve avere un bel coraggio Per andare su dalla salita dei maiali Lì c'è una salita Che tira di brutto Appetito Adesso Da un momento all'altro Dovrebbe poter entrare Perkins Per la rinquinizzazione Eccola, me la sono chiamata E ci vediamo alla fine Ok ragazzi Rieccoci tornati Nel frattempo è arrivato anche Simo Ecco Hai bannato Perkins Simo Porca Te l'ho detto di aspettare Bannare Aspetta, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta 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 Eh, l'ho già fatto io Sì, ma l'ho già fatto io Ah, poi Eh Perché so che tu vorrei questo video Per cui ti chiedo scusa Ma Eh A volte succede Succede Niente Eh, cosa stavamo dicendo Ciao Scusami Scusami Eh Scusami C'era Un Un Una 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 persona Sì Noi no però Eh Vabbè Allora se ci senti Perfetto Almeno non dobbiamo Scriverti Densi Mi dà l'indirizzo TeamSpeak Mamma mia Eh TeamSpeak Sì, sì Sì, ciao 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 Allora, TeamSpeak Scusami Eh Perché Ogni 8 anni Mi m'ha spiegato No, ma che sto fatto Che posso fare? Eh Guarda C'è Sali Sul Sul Deus Che si è appena piantato Qui al tre Quello che sta coltivando No Pieno 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 Sono asportato Eh, lo vorrei io Sì, sì Ok, poi mi chiamo Sì Allora Adesso tutti i cari sono in giro Tra l'altro Uno si è perso Ma che cavolo di giro sta facendo Quello che ha il 30 Come minimo sarà Matteo Eh, non sarà Matteo C'è Lamborghini Di fermo Come Lamborghini fermo Eh sì Ah, è uscito Matteo Ecco perché Vabbè Entra Simo Vabbè Aspetta che arrivo giù Con questo che almeno Perdiamo meno tempo 4 di Cerlago Allora io dove devo Sono qui Devo andare Subito toppato in pieno Vabbè Ecco Vabbè La sincro di Simo ragazzi Non ve la taglio neanche Perché Non c'è la convenienza Tagliarla Guardate 10 3 2 1 Boom Finita Sì Vabbè Sì Allora Ciao Simo Ciao Scusami Che Vagno 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 Scusami Scusami? No, 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 scusami per prima. Che ti fa fannato. No, che cavolo ho fatto? Pensavo di passarci. Mi scusi Matteo. Dan, per quella cosa gli ho chiesti i permessi. Mi chiesti? Te la date? E ancora no. Niente Simo. Ma io mica mi chiamo Simo. No, io sono Dan. Ah, boh. Ok. Allora, adesso poi ci sono da concimare tutti i campi. Stavo pensando, ma abbiamo mica un trattore? Cioè, il Dioz l'ultima volta l'abbiamo mica venduto, no? Io non ho troppo più il Dioz. Uno. Ce n'abbiamo uno, Dioz. Ehi. Ah. E l'altro mi ricorda mica di averlo venduto. Ah, per comprare il Mac Ford. Sì, per comprare il Mac Ford. Allora. Ci servirebbe... Ehm... Non un altro trattore gigantesco, però... Dato che adesso comunque vedo che siamo sempre tanti dentro. Direi che... Aspetta un attimo, Andrea, che adesso arrivo. Si potrebbe pensare di prendere un trattore adibito al... Ehm... Anche per il concime, a fare lavori un pochino più leggeri, magari... In futuro. Oh, Lurliman. Eh? Lurliman. Lurliman. Oh, aspettate un attimo, state facendo rifornimento a qualcosa? No. Eh... Ci sono i soldi che calano un po' troppo alla svelta. Ma per il concime non puoi usare un Massey? Quello del pack? Eh... Anche solo che non voglio mettere troppe mod. No. Eh, allora... Si prende... Prendiamo l'Urliman, ragazzi. Almeno... Il Deus lo teniamo proprio come trattore di ultimo... Allora, ma non pago bene. Si, si pago ieri. Ah, non lo so. E beh, però è caro... Cioè... 8000 euro in meno? Vabbè, dai, non si vede mai l'Urliman. Prendiamolo. Vediamo se c'è qualche offerta. Ora... No. Eh... Oggetti... No, che oggetti posizionabili. Questo. Perfetto. Adesso ce l'ha da fare il 34. E intanto, ragazzi, ho notato che... Comunque gli alveari ci pagano tanto. Starebbe da mettere qualcuno anche magari di questi. Perché già ci danno tipo 30-60 euro all'ora. Mi ricordo che... Eh, infatti, qui c'era qualcosa. Oddio, scusami. Oddio. Non va? Ah, 5 all'ora. Tra poco, stacco il 5, l'udirò. Eh... Vai, tiragli via i pistoni, tiragli. Come ti vuole legno? Eh... Tutti in giù. Pensavo che è riuscito... Intendi su FS. Ah, io non sto capendo nulla. Il cartello! Stiamo io tutto. Io... Ah, ragazzi, in teoria, oggi... Eh... Oggi, sì. O avete già visto... No, sicuramente vedrete... Eh... Nell'arco della giornata... Eh... Il video... Un nuovo video di... Formula 1 duemila e sedici. Per cui... Non so perché ora... Quella quarta puntata dei... Spindaglia sono? Eh. Quando scappa? Eh... Oggi. Cioè... Per te domani, per quelli che guardano il video oggi. Massimo, devi scaricare dei maiali, eh. Ah, Simo, scarica dei maiali. Va bene, va bene. Eh, mi son dimenticato di dirtelo, scusi. Da... Da li porci. Io non so dove si faceva prima se a passare sopra di qua... Sì, beh, sicuramente si faceva prima. Da li porci? Eh... Vieni tra il 34 e il 40. No, tra il... Eh... No, quando è nata. Tra il 39 e il 42. Quell'edificio là. Ok, ma no, perché quando... Lo rio io è noto. Ecco, perché io sto andando su se devo andare al 43? Allora, la strada era giusta. Ah, va bene. Ah, che peggio. Allora. 34 e devo andare lì. Ma come ci arrivo lì? Oh, io sto... Io seguo la strada. Da qualche parte mi porterò. Ma in teoria se faccio tutta sta stradina di montagna mi ci porto. Oh, c'è la. Eh, ragazzi, adesso per la serie tedesca c'è un attimino di problemino. Perché l'ultima trincea non vorremmo riempirla perché poi non possiamo svuotarla. Cioè, abbiamo visto che non possiamo svuotarla. Per cui non vorremmo buttare via tutto il trinciato. E così prima dobbiamo svuotare tutto il... Beh, già che sono qui anche se ho il 7% non lo vado a scaricare, dai. Dovremmo svuotare tutta la trincea che è fermentata. E... Per cui... Ok. Facciamo i mucchi di... No, perché c'è il tempo? Facciamo i mucchi di sillato fermentato in terra. Eh, buttiamo i mucchi di sillato, di trinciato quello che non è fermentato. Ho sbagliato strada. Dove sei? A 19? No, il 33. Eh... Eh... Eh, ci vorrebbe, ragazzi, anche... Dato che anche la Trebbia va piano, comprare il carrellone. Eh, ma dov'è che siete tra tutti i nostri posti? Benno. Eh. E taglia, vai, puro. Però... Scusami. Dimmi, dimmi. Faccio anche il 7? Sì. Anche il 7. E la trincea qui? Ah, è qua dietro. Ok, almeno ci iniziamo a preparare. E se riusciamo... No, però scarica, volentieri. Oh, quando i borschi si è comprato? Vero. Eh, perché dobbiamo ancora darci tutto in futuro. Eh... Perché ci serve... L'erba non è un problema, la paglia nemmeno. Eh, ci serve il... Il trinciato e le patate. Ok. E poi... Dovrei provare... Intanto c'avevo la strada comoda di là, sono venuto a passare di qua. Pazienza, dai. Ehm... Dovrei provare se funzionano il... Eh... Con le barbabietole. Perché è più comodo da seminare... Le barbabietole. Per cui se qualcuno di voi lo sa che ne è abbastanza sicuro... Cioè, no, beh, abbastanza sicuro anche no. Perché comunque... Non è che ci vuole tanto. Proviamo, se non ce le prendiamo. Perché adesso comunque la compriamo... La affittiamo, la Grimm, eh. C'è mica la seminatrice da patate che è vuota. Eh... Mi stanno calando di soldi in una maniera impressionante. Eh... Vuota, è vuota. Eh, vabbè, dai. Vai così, dai. Ballurli ma non vi compri il peso. Eh, c'è già, no? Sì che c'è. Gli ho preso un pesettino piccolo da ridere. Perché comunque non penso... Possa portare così tanta... Così tanta zavorramenti. Riprendiamo il nostro... Lamborghini qui. Allora... Dove siamo noi lì? Ah. Eh, ecco... D'è necessità da cambiarsi un datore? Quale? Scusami. Lo metti a sommendare... L'altro sarà lo vendi... Ti comprenderò. Eh, cosa compriamo? Il same può andare ancora bene. Cioè... Lo metti a sommendare? Eh. Eh, ma comunque adesso i mezzi ce li abbiamo. Adesso perché stiamo... Vabbè, ma anche se in futuro poi trinceremo. In effetti ne abbiamo bisogno. Eh... Io comunque col mecca arrivo. Poi... Se serve possiamo togliere il deuce. Mettiamo il same... Sotto a... Alla dischiera e... Prendiamo il deuce sotto al carro. Eh, comunque anche sarebbe da... Da fare una cosa del genere. Ok. Vediamo un pochettino. Ah, il deuce però c'è sopra qualcuno. Perfetto. Allora, noi portiamo in farm questo. Te lo devo dare? No, no, stai, stai. Per vedere come era messo venivo. Eh, stai facendo il trezzo a pensione. Perfetto. Adesso noi abbiamo poi da concimarci in tutti i campi questo qui. Eh... Ok, da seminare. Mmm, sì. Davide. Con sà molto sega! Semmi curo. Allora... Una patata in qualità. Se... Ci sta... È lì, proprio. Ma perché in teoria poi gli ha fatato anche... Adesso voglio che sono curioso. Ertfruiz, allora? Ecco, ci vorrei al Lugamio dei Veroneti. Eh, vabbè. Oh, dove state attringiamo i dati? 34. Niente ragazzi, noi ci fermiamo qui, almeno se riusciamo, riusciamo anche a iniziare a raccogliere le patate dopo. Sì, la seminatrice. Ok ragazzi, rieccoci tornati. Allora, stiamo sistemando io e Andrea un pochino qui la farm. Qua, aspetta. Scusa, è se... Con tutto il posto che c'era. Vai, passati. No, eh beh, passa. E devo venire di lì. Che passa, fa rubato, Andrea. Aspetta. Vai, 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 che... Andiamo. Che campo faccio? Eh, tutti. Parti 6, 11, 20, 34, 3, 7. E ormai il risparmio da 11. Tu che assomendi? Eh, dietro dove ci sono i carri. No, no. No, sì, mo' lì, dall'altra parte. Allora, ragazzi... Nel frattempo dovrebbe essere cresciuto tutto. Io non capisco perché ci mette così tanto. Sto asseminando, allora. Io me la faccio, me la faccio, no, no. Ah, ma... Ah, se qui tutti stiamo a fare qualcosa... La Grimm è per ora non l'affitto perché deve ancora finire di crescere. Tratto, qui ci sono un sacco di uova, le galline che dormono, le uova. Che campo devo commentare? Eh... Da me c'è il diluvio universale. Da tutta l'ora, dove ho lì, ecco. Devi, allora... Io non so cosa stia facendo con l'altro, la... Allora, il 20... Vado qui! Vado qui! E qua! Allora... Eh... Ecco, Simone, te... Guarda, lascia pure lì la seminatrice. Aspetta, aspetta che... La partenza qui... Poi ti... ti fai prendere il fame... Ti... ti fai dare o prendi il fame... Prendi... Prendi il fame e... E porti uno, un carro, o quello piccolo, o quello grande, Giù al... al 6. Quello lì lo parcheggi. No, mi servono a me! Ok. Ecco, lo... lo... lo salmio è tu. Perfetto. Sono i carri? I carri stanno dentro al portone... Eh, aspetta, te lo porto io, te lo porto. Stai lì che... Qui c'è già troppo casino. Eh, c'è... c'è uno, scusa. Ah, non lo so, non sto capendo più niente nella chat. Eh, vabbè ragazzi, alla fine non ce la facciamo a raccogliere le patate in questa puntata. Ve lo dico già adesso, per cui... Vi ringrazio tantissimo per la visione. Se mai, Simo, se il T6 non serve, se... Vuoi... Darci un attimo una rimescolata nel... T6... Quasi il D sempre. Eh, vabbè, almeno... vabbè, poi lo parcheggio io. Niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione, da Dan. Simo. Andrea. Per 1590. Ck. E anche quindi Matteo, non so cosa sia quel ck, comunque ck anche a voi. Eh. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.